allora oggi vi racconto una storia ogni mattina un leone si alza e ruba la crema idratante a una gazzella che inizia a rincorrerlo per tutta la casa vi sembrerà un po buffo ma in realtà questo è quello che succede nella maggior parte dei bagni di molte famiglie dove l'uomo va un po sgraffignare nel beauty case della propria compagna moglie o sorella qualche prodotto cosmetico l'uomo ha iniziato a rubare la donna non solo i prodotti di bellezza ma anche buona parte del tempo passato in bagno davanti allo specchio e del resto per entrambi i sessi c'è un'attenzione sempre più alta sempre maggiore a curare il proprio aspetto fisico perché un po a tutti viene voglia di andare a rallentare i segni del tempo o anche a concedersi un pochino di relax per quanto riguarda il tempo oddio bisognerebbe l'ideale sarebbe avere due bagni in casa mentre utilizzare i prodotti che usa la propria compagna è proprio un grosso errore che commettono in tantissimi e tra le altre cose negli ultimi anni sono proprio spuntate come funghi centinaia di linee cosmetiche che sono dedicate alla cura dell'uomo ma secondo voi è solo una questione di marketing a volte sì a volte no è giusto andare analizzare questo tema parlando proprio delle differenze che ci sono tra pelle maschile e pelle femminile che poi è anche quello che dovrebbe giustificare la distinzione tra i vari prodotti che trovate in commercio ma purtroppo ahimè non è sempre così allora c'è pelle pelle questo io l'ho già detto in altri video ovvero le pelli non sono tutte uguali esistono delle differenze da persona a persona dettate ovviamente dal dna e anche all'interno della propria famiglia e queste differenze sono ancora maggiori ancora più evidenti ovviamente tra uomini e donne e a determinare le principali caratteristiche della pelle maschile è sicuramente l'influenza ormonale perché l'uomo ha un livello di testosterone che è 10 volte superiore a quello della donna e quindi quali sono queste principali differenze andiamole a vedere insieme prima differenza è lo spessore allora la pelle maschile in genere è più spessa di quella femminile a seconda della zona da un 15 a un 24 per cento circa la parte più esterna dell'epidermide quindi la parte più esterna proprio della pelle è lo strato corneo addirittura nell'uomo ha più strati un numero maggiore di strati cellulari ovviamente solo in alcune aree del corpo mentre sotto quindi nel derma c'è una maggiore quantità di collagene che noi donne ahimè ce lo sogniamo quindi più strati e più collagene la pelle è molto più tosta e la pelle maschile è più spessa ma di conseguenza è più compatta e più tonica più robusta e anche più resistente a quelli che sono gli attacchi degli agenti esterni rispetto ovviamente invece alla pelle femminile che è sempre più delicata e anche più sottile e questo implica un aspetto molto più giovanile mantenuto molto più a lungo a vantaggio dell'uomo la seconda differenza è la secrezione sebacea la pelle maschile è molto più grassa di quella femminile infatti sempre il testosterone rende la pelle dell'uomo più grassa perché aumenta sia il numero che le dimensioni delle ghiandole sebacee che sono anche più stimolate dal testosterone a produrre molto più sebo e questo rende anche i follicoli pilosebacei più dilattati e più evidenti a svantaggio un po dell'uomo la pelle maschile però ha un più elevato contenuto di lipidi e questo spiegherebbe anche il motivo per cui sono molto più diffuse le tipologie di pelle grassa o mista e ha una maggior predisposizione all'acne all'iperseborrea anche punti neri o pori dilattati insomma rispetto alla donna quindi sempre è un po uno svantaggio nell'uomo che è costretto poveretto a combattere con i foruncoli fino alla tarda età di 50 anni quando ormai l'attività ghiandolare tende a stabilizzarsi e normalizzarsi mentre nella donna questa attività proprio si spegne perché tende a scomparire con una minore attività delle ovaie con la menopausa per l'uomo il vantaggio è che essendo lo strato corneo più ricco di lipidi ovviamente la pelle è molto meno soggetta alla secchezza cutanea e quindi si mantiene molto più elastica e più flessibile quindi ci sono pro e contro allora la terza differenza è il microcircolo cioè la pelle maschile ha sicuramente una maggior densità vascolare un maggior flusso sanguigno è più vascolarizzata infatti questo le conferisce anche un colore più scuro e più rosso rispetto alla donna la pelle dell'uomo però con l'invecchiamento è molto più soggetta a quelle che sono definite teleangiectasie cioè questi capillari superficiali che si vedono sono visibili sotto l'epidermide sembrano un po' delle ragnatele rosse questo difetto cutaneo sicuramente è peggiorato da l'atteggiamento il comportamento poco preventivo nei confronti dei raggi solari che ha l'uomo ovviamente i raggi provocano infiammazione e vasodilatazione quindi ascoltatemi ragazzi e proteggetevi la pelle se non volete poi incorrere questo difetto cutaneo intorno ai 50 anni quarta differenza è il ph cutaneo il ph è la misura dell'acidità quindi nel nostro caso il sudore determina l'acidità della pelle e infatti è prodotto dalle ghiandole sudoripare queste ghiandole si trovano in un numero molto maggiore nelle donne però in realtà poi l'uomo suda molto di più e tra l'altro in seguito a uno sforzo fisico suda molto più in maniera più abbondante e anche più veloce più rapida e tra l'altro la pelle maschile anche è più acida proprio perché ha una maggior produzione di acido lattico il che la rende molto più resistente alle infezioni batteriche protegge dalle infezioni batteriche però è anche molto ma molto più soggetta a infiammazioni cutanee quindi in questo caso va posta attenzione alla detersione allora quinta differenza è la rasatura cioè la pelle dei maschietti ha proprio un sistema super accelerato un sistema pilifero molto sviluppato e infatti ha una barba che presenta circa 15.000 peli che crescono in una media annuale di 14 centimetri all'anno quindi la rasatura quotidiana alla quale viene sottoposta la pelle dell'uomo rappresenta proprio un'aggressione importante oltre appunto a stressare la pelle la rasatura provoca anche delle micro micro traumi micro ferite degli arrossamenti delle irritazioni e soprattutto va a determinare una fortissima disidratazione perché quando l'uomo passa il rasoio sulla pelle oltre ai peli rimuove anche lo strato superficiale delle cellule cutanee e riduce notevolmente il film idrolipidico che protegge la pelle quindi prestate molta attenzione come eseguite la rasatura sesta differenza è l'invecchiamento ed è molto importante perché la pelle dell'uomo invecchia più lentamente gli uomini hanno una struttura uno spessore della pelle diverso e anche grazie alla secrezione sebacea che la protegge appunto dalle aggressioni esterne l'uomo accusa molto meno l'insorgenza delle rughe quindi i segni del tempo si manifestano molto più tardi la lotta delle rughe però coinvolge entrambi i sessi vero quindi sebbene la pelle dell'uomo invecchi molto più lentamente le rughe arrivano anche per lui e quando arrivano sommazzate cioè sono molto più evidenti e molto più profonde infatti quando si attiva il processo dell'invecchiamento cutaneo nell'uomo è proprio un fiume in piena che spazza via che lascia segni improvvisi e anche molto più marcati soprattutto in corrispondenza della fronte ma anche del contorno degli occhi si formano delle borse molto importanti e delle guance quindi detto ciò la cosmetica maschile deve proprio tener conto di tutte queste caratteristiche viste insieme che sono specifiche della pelle dell'uomo ovvero un maggior spessore cutaneo una maggior untuosità una vascularizzazione anche maggiore della pelle maggior acidità una maggior aggressione con la rasatura e un invecchiamento tardivo molto più marcato quindi se sei un uomo non andare a rubacchiare qua e là le creme non farti anche però bindolare dalla pubblicità o dalla fragranza di un prodotto cosmetico maschile prenditi proprio cura della tua pelle in maniera mirata e anch'io da farmacista te lo consiglio e se ti è piaciuto questo video mettimi un bel like qui sotto e magari se vuoi saperne di più iscriviti al mio canale alla prossima Ciao! Ciao! Ciao!